Siamo con mister Giuseppe Lichiano, allenatore delle Aquile Molfetta, formazione di calciacinque appena costituita e militante nel campionato di Serie G2 che avrà ad avviarsi agli inizi di ottobre. Mister, un gradito ritorno quindi a Biceglie con questa sgambata che già fa vedere le Aquile Molfetta in notevole forma per l'avvio del campionato. Diciamo che notevole forma è un po' presto per dirlo ma anche perché siamo all'inizio della preparazione, i carichi lavori di questi giorni ragazzi non lavorano.